Incidente mortale questa mattina sulla strada statale 18 in località Cafasso nel comune di Capaccio a perdere la vita una donna originaria di Caserta ma residente a Santa Maria di Castellabate. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della locale stazione sembrerebbe che l'auto proveniente da Battipaia in direzione sud abbia svoltato a sinistra urtando una moto che viaggiava in senso opposto direzione Battipaia. Il violento impatto non ha lasciato scampo alla povera donna. Inutili tentativi di rianimarla purtroppo non c'è stato nulla da fare. La 53enne è deceduta sul colpo distesa sull'asfalto sotto gli occhi di tanti che incuranti hanno assistito alla scena. Insieme a lei a viaggiare sulla moto anche il figlio che ha riportato fratture in diverse parti del corpo e un trauma cranico. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del sinistro stradale.